Basta al fotovoltaico selvaggio sui campi agricoli. La provincia di Macerata interviene con un atto di indirizzo sull'interpretazione del PTC, Piano Territoriale di Coordinamento, per aumentare le tutele verso gli impianti a terra, che sono oggi in provincia 88 per un totale di 141 ettari. Il fotovoltaico va fatto, va incentivato, va incoraggiato, ma realizzato nel modo più corretto possibile. L'uso del terreno agricolo è assurdo, quindi si allargerà tutta la fascia delle tutele con l'inserimento anche di queste aree individuate al PTC. Secondariamente, ed è l'altro aspetto importante, saranno i comuni, l'organo individuato è il Consiglio Comunale, che è il massimo organo rappresentativo dei cittadini, che dovrà esaminare e eventualmente accettare o respingere le certificazioni, documentazioni che i tecnici potranno produrre a sostegno di una eventuale esenzione da quelle tutele. Bene, sarà il Consiglio Comunale e non il tecnico di turno a valutare legittimamente se, nello spirito del Governo del territorio, che è un potere, una competenza del Comune, se quelle aree dovranno o no essere tutelate. E sulle situazioni esistenti non si potrà fare nulla? Purtroppo no, sugli impianti già realizzati non potrà essere fatto nulla. L'atto di indirizzo della Giunta sarà entro maggio sottoposto all'esame del Consiglio Provinciale.